Visto che nessuno vuole lavorare, ormai tipo Juniors ha messo praticamente un post che vi danno un bonus di 250 dollari se volete, se venite a lavorare, un pagamento competitivo, insicurazione medica e dentale, programma la metro gratis, referral bonus non so cos'è, insomma sono disperati, hanno bisogno di gente che lavora. Mamma che bei cavalletti, wow, wow, amici domani riapre il negozio favorito di mio padre, infatti mi ha già detto che devo venire a comprare le magliette. Ho il gusto estetico dei New Yorker che guardate mettono qua questi pezzi diciamo industriali di cemento e le considerano panchine e tavoli per sedersi e per mangiare. Allora, osservate amici del mio viaggio a New York, quelle sono le luci commemorative dell'11 settembre. Ho visto che bello? Questa è la carrozza di Supreme, della metro di New York. Devo dire che è veramente molto bella. Wow Che fegata, che fegata. Ho sempre amato che la metropolitana, che è un posto di per sé brutto, abbia comunque molta arte. Guardate adesso, amici, veniamo a cenare in questo posticino che si chiama La Nonna. La Nonna. Che bel tavolino che abbiamo qua. Abbiamo qua di buono. Focaccia. Segui a Matteo che compie 20... 29 anni. Auguri, auguri. Auguri. E forse un'altra cosa con il palle. Sono le mozzarella. Tanta roba. Chiamo di piante però. No, appena. Che cosa? Sono stato due anni qua. E ti charge, non quello che ti hai preso. O non ci sono le tre capo, a me, a me, a me, a me, a me, a me. Se vuoi capire il capitalismo, lo devi in America. La mia amica costa 17 euro. Pove di zucca. Tutti i pagani. Tutto bene, grazie. Molto buono. Buon appetito. Grazie. Un appena brazzo, una tingola prima. Come si spegne, non si spegne. Beh, hai bisogno di aspettare la gandella che non si spegne. Posega, grazie. Fai che ti fai inCendi, no? Chi è vero? Cosa è troppo buosto? Chi?